Ai microfoni di Nero Verde Channel con Angelo Gadda, uno dei fondatori di questo club. Da cosa nasce l'idea di fondare questo club e di seguire la Castellanzese come un gruppo organizzato? Abbiamo pensato di fare quel club qua, prima di tutto per ringraziare il Presidente Affetti di tutto quello che ha fatto in quei 15 anni qua di presidenza. Poi come tutti i ex sportivi, calciatori a livello dilettantistico, abbiamo pensato di fare un club per onorare la Castellanzese che ha raggiunto certi traguardi fino a qualche anno fa impensabili. Quale sarà poi l'obiettivo di questo club? Seguirete la Castellanzese in che modo? Allora sicuramente in casa la seguiremo, stiamo pensando anche di fare qualche iniziativa per le trasferte però questo sarà fatto successivamente. Bene, grazie mille. Grazie.